Buongiorno a tutti e benvenuti a questo podcast settimanale. Praticamente qualche giorno fa, proprio così in considerazione di alcune parole espresse da Powell quando, detto alla maniera americana, è andato on the hill, cioè al colle, come diciamo noi in realtà, è andato al congresso e di fronte al congresso ha risposto a tante domande per due giorni consecutivi dove gli hanno chiesto di tutto sull'andamento dell'economia americana. Ebbene Powell ha parlato per la prima volta apertamente della possibilità, vero lo ha detto sempre con molta timidezza, lo ha detto sempre come una cosa che chissà, forse sì, forse no, però per la prima volta ha usato la parola recessione e io vi ho scritto proprio nel canale Telegram per dirvi che mi sembrava che quello fosse un grande passo avanti, un po' come quando in un contesto familiare o tra amici oppure in un ambiente di lavoro, in qualche modo si sdogani qualcosa che c'era, tutti lo sapevano, alleggiava nell'aria, ma era tabù parlarne e invece improvvisamente qualcuno ha il coraggio di pronunciare qualcosa, di dire quella parola, di portare avanti un tema e a quel punto la situazione deflagra. Deflagrare significa che l'evoluzione può essere positiva o negativa, in ogni caso si mette un punto. Io credo che quello che ha fatto Powell di fronte al congresso americano sia stato disdoganare il concetto che gli Stati Uniti potrebbero anche finire in recessione. Tutti lo dicevano, gli analisti lo dicevano e nel dirlo erano quasi un po' arrabbiati, come dire, ma la Fed è possibile che di nuovo fa lo stesso sbaglio dell'inflazione e non prende atto di questa cosa? E la Fed invece ha sdoganato questo concetto. Praticamente dapprima non è cambiato nulla, il contesto è rimasto assolutamente uguale, però da quel momento lì in poi non è stato più tabù parlare di recessione e quindi la situazione in qualche modo ha tolto di mezzo quell'aura, quel contesto negativo che alleggiava su tutti i mercati. E come vi ho scritto l'altro giorno, ebbene il 78 di voi è stato d'accordo con me nel sondaggio successivo, questo è un tema che avrebbe potuto anche dare ai mercati la possibilità di avere una reazione positiva o negativa, ovviamente nessuno lo poteva sapere. Quegli americani, con la seduta di ieri, sembra chiaro che l'abbiano avuta verso l'alto. Quindi è il momento di festeggiare, siamo arrivati al turning point? Io credo di no, io credo che siamo in una fase in cui ci può stare un bel rimbalzo, i mercati erano molto attirati, anche molto stanchi, hanno provato in ogni modo, certo è molto difficile rimbalzare senza l'aiuto della Federal Reserve che pompa continuamente denaro nel sistema, ci vuole molta forza come uno che si alza e dopo, come succede ai mercati, quasi 15 anni che aveva avuto la badante, in realtà fa tutto da solo, però ce la fa, sembra che possa farcela, almeno per un po' può fare un tentativo, non ci aspettiamo che vada a fare la maratona di New York, però magari che possa fare qualche passo in autonomia. E allora che cosa succede? Succede che io credo che visto che si sta andando a fine mese, e visto che a nessuno fa comodo avere nel primo semestre dell'anno mercati proprio sui minimi, probabilmente anche quelli che sono in questo momento i venditori netti che sul mercato hanno agito e lo hanno anche molto spinto verso il basso, lo hanno affossato in maniera chiara, in questo momento magari si prenderanno qualche giorno di vacanza e i mercati potrebbero in qualche modo muoversi a rialzo. Fa comodo a tutti, anche a chi vende, perché poi se deve ricominciare il suo mestiere può farlo da prezzi più interessanti dalla loro prospettiva, dal loro punto di vista. Quindi io credo che ci possa aspettare qualche giorno, che senza dire che si debba sfociare in enormi entusiasmi, possa essere interessante per i mercati. Durerà poco? Beh, io credo che sia di nuovo un po' di ricreazione, diciamo così come ho avuto modo di usare questa metafora in momenti precedenti, e poi che si tornerà alle ore di lezione impegnative, quindi si tornerà purtroppo alla dura lex, sad lex dei mercati che in questo momento ha spinto a ribasso. Però potrei anche sbagliarmi, perché non è che io so più di chiunque altro, io semplicemente cerco di interpretare quello che il mercato mi offre. E allora penso che possiamo tranquillamente cercare di capire se questa situazione può continuare, pronti però ad accettare il fatto che in qualsiasi momento il mercato possa tornare a girarsi e rivolgersi di nuovo verso dei ribassi. Se questo non accadrà, lentamente, diciamo, ma con altrettanta fermezza, prenderemo atto invece di una reazione che può essere più estesa. Credo in ogni caso che decisiva sotto ogni aspetto, e quindi anche per la possibilità di cercare un bottom, di trovarlo, e di trovare poi magari una reazione più significativa, sia la reporting season che ci stiamo avviando, diciamo così, ad affrontare a partire dal mese di luglio, perché lì sapremo esattamente che cosa ci racconteranno le aziende e vedremo se eventuali revisioni, speriamo di no, ma possibili eventuali revisioni dei target, degli obiettivi, e quindi anche delle aspettative di crescita e delle aspettative di guadagno e delle società quotate, porteranno o stimoleranno gli operatori e gli analisti a rivedere le previsioni di utile nel prossimo anno. Questa sarà la chiave, perché sarà il modo con cui potremo capire se l'SMP500 verrà considerato caro oppure a sconto rispetto alle previsioni sulla base delle ultime trimestrali e delle semestrali. Grazie a tutti per questo appuntamento di oggi e alla prossima, ciao!